Bisogna aspettare ancora qualche giorno. Nicola Dionisio commenta così il momento societario del brindi, si guarda avanti ma non fa promesse. Il direttore sportivo Biancazzurro, che sarà in sella anche nel prossimo campionato, è intervenuto alla Puglia nel pallone, in onda sul canale 85 ogni giovedì sera. Ci sarà un altro incontro tra i soci, ha annunciato Dionisio, e bisognerà capire cosa succederà. Il DS non vuole addossare colpe per quello che è successo invece in questo campionato, ma sicura, mi auguro che la prossima sia una stagione più tranquilla, anche se negli ultimi mesi ciascuno ha fatto quello che ha potuto. La salvezza però è stato un mezzo miracolo sportivo. Per informazioni, chiedere a Salvatore Ciullo, è una squadra che ha fatto benissimo, conquistando un traguardo preziosissimo. E allora, questi sì, sono giorni di attesa, anche per lo stesso Dionisio, che così non può nemmeno guardare al mercato. Giorno in più, giorno in meno, ciò che conta sarà davvero guardare al futuro con un occhio diverso.